Buongiorno, siamo qui con Mélis de Carangalla, una scrittrice che ha un successo crescente, sempre più apprezzata qui in Italia, soprattutto grazie ai suoi due romanzi che sono stati tradotti negli ultimi anni, Nascita di un ponte e Riparare i viventi. Ma Mélis de Carangalla in realtà ha iniziato a scrivere parecchio tempo prima, il suo primo romanzo era di vettura del 2000, si titolava Je marche sous un ciel de train e a questo ne sono seguiti un'altra decina, sono 10-12 libri di romanzi, racconti eccetera, tra cui appunto Nascita di un ponte che è stato un romanzo, il primo romanzo tradotto qui in Italia che ha avuto molto successo, questa storia della costruzione di un ponte, poi subito dopo un altro romanzo molto apprezzato, Riparare i viventi, che era la storia di un trapianto, di un trapianto di cuove, tutte e due pubblicati da Feltrinelli come pure quello successivo, Lampedusa, e come pure il romanzo di cui andiamo a parlare oggi che è il nuovo libro di Mélis de Carangalla che si intitola Corniche Kennedy, in francese si dice Kennedy, anche se noi naturalmente dovremmo dire Corniche Kennedy. Un romanzo pubblicato da Feltrinelli e tradotto da Maria Baiocchi, che in realtà è precedente ai romanzi di cui abbiamo parlato, nel senso che era stato scritto nel 2008, è un romanzo che in Francia, diciamo così, è un romanzo che forse ha fatto esplodere il caso di Mélis, è stata scoperta dalla critica, dal pubblico, prima ancora di Nascita di un ponte, un romanzo da cui poi è stato anche tratto un film di Dominique Cabrera, ed è un romanzo, per andare veloci, diverso in realtà da Nascita di un ponte e Riparare i viventi, che erano due romanzi appunto molto strutturati, con una struttura narrativa molto forte, una storia che era appunto in un caso un ponte, nell'altro un trapianto che reggeva l'architettura del romanzo. Qui siamo, diciamo così, in un'altra dimensione, in un altro mondo, siamo a Marsiglia, Corniche Kennedy è la scogliera del lungomare di Marsiglia, proprio in città, nel cuore della città, e su questa scogliera si ritrovano quotidianamente un gruppo di ragazzini, di adolescenti che hanno tra i 15, i 18 anni, eccetera, per stare insieme e soprattutto per tuffarsi dalla scogliera. Ci sono vari punti da cui tuffarsi che sono più o meno difficili, più o meno pericolosi, ma comunque tutti vietati, perché sarebbe vietato tuffarsi da questo scogliero. E la sfida di questi ragazzi, di questi adolescenti, è appunto invece di continuare a farlo e naturalmente c'è un poliziotto, un commissario di polizia che in qualche modo sarebbe incaricato di impedire loro di fare questo tipo di sfida all'autorità e alla legge. In realtà è un romanzo molto meno strutturato, molto più semplice. C'è questa banda di ragazzini, c'è Eddie e Suzanne, due giovani, tra cui nasce anche una passione, una storia d'amore, c'è un terzo personaggio, Mario, il loro amico, e tutto si svolge attorno a questo, all'amicizia, alla sfida, il gusto del pericolo, l'amore, le relazioni all'interno del gruppo, quindi un romanzo appunto diverso. Allora, potremmo proprio partire da qui, per poi capire come questo romanzo in qualche modo ha anche anticipato i romanzi successivi di Mailis. Mailis de Carangale viene dal nord della Francia, è nata alle Avro, proprio a parte opposta. E allora la mia prima domanda è questa. Che cosa è andata a cercare una ragazza del nord come te a Marsiglia? Che cosa ti ha colpito, che cosa ti ha affascinato di questa città? Perché hai deciso di ambientare questa storia, che avresti forse potuto ambientare in tante altre situazioni? Perché hai scelto Marsiglia? Buongiorno a tutti. Allora, Marsiglia è una città molto speciale in Francia. È una città che innanzitutto forse è la più ampia, la più larga e poi forse è la città più povera. È una città mediterranea. Con una certa sociologia ci sono stati ondate di immigrazioni molto importanti. È una città dove il lungomare, questa riva dove si situa il libro, è il più lungo. È la città con la più lunga riva. Io ho vissuto in Normandia, ma sono nata a Tolone. Sono nata a Tolone, a pochi chilometri da Marsiglia. Conosco questa costa, conosco il sentimento di totale sfumatura col sole. E per me era una sorta di abilità autobiografica. Io sono cresciuta da 0 a 18 anni. Ho vissuto in una città situata lungo il mare. Ed estate andavamo al mare. E la posizione, è vero, la posizione di questo lungomare, questo essere fra due mondi è interessante. Ed è proprio questo che ho scritto di Marsiglio. È molto intimo per me. C'è una grande intimità in questo libro. La riva, per me, quello che si chiama Corniche, il lungomare, questo viale lungomare, è veramente concepito sia come linea che separa, sia che divide il mondo. Per gli adolescenti il mondo è diviso in due zone. Una zona, la città, che rappresenta la legge, che rappresenta gli adulti, gli uomini, la genealogia familiare, la memoria. E dall'altra, quest'altro mondo. Il mondo del mare, del tesoro puro, della sensazione, del desiderio, il mondo della sensualità. E questo lungomare, questa cornice, separa queste due zone. E allo stesso tempo è dialettico, perché le separa, ma contemporaneamente le mette in contatto. Una cerniera le collega come due placche tettoniche. Ed è un romanzo, questo, dove ho iniziato ad insistere in maniera radicale, in maniera profonda, sul, diciamo, il genio del luogo della letteratura. Ci sono luoghi che possono portare al romanzo, che possono essere popolati, abitati da personaggi, colonizzati da personaggi. E il rapporto fra la scrittura e il saper cogliere questi spazi, ebbene, mi attira tantissimo. E questo da quando ho scritto Cornish Kennedy. Su questa frontiera tra due mondi, è effettivamente poi uno dei temi che ritroveremo dopo. Nascita di un ponte, il ponte serve a mettere in relazione due mondi. In riparare i riventi siamo di continuo alla frontiera tra la vita e la morte. E quindi è proprio, diciamo, c'è questo tema che poi ritroviamo nei tuoi romanzi successivi. Sì, è vero. È vero una sorta di fil rouge, di filo rosso, di continuità. Considerare questa condivisione del reale, condivisione del sensibile, in riparare i viventi era un'altra frontiera, molto più filosofica, che mi aveva catturato. Cioè, in che momento siamo morti, quando siamo morti, qual è questo momento? Per esempio, il cervello è distrutto, ma gli organi continuano a funzionare. Qual è la frontiera? Mi aveva mobilitato molto questo aspetto, mi ero interessato molto a questo aspetto. Poi, quello che mi tocca nell'animo, mi tocca anche il fatto che Feltrinelli, ringrazio Maria Baiocchi e Fabio Muzzi e Maria, che traduce da sempre i miei libri, di aver pubblicato questi libri, libri che questo libro precede gli altri. Ma questo mi permette però ora di risituarlo in una sorta di catena, di continuità di romanzi. E qui c'è la storia della frontiera, che ritroviamo anche in seguito. Ma c'è anche la questione dei luoghi e anche la questione del gruppo. Non c'è soltanto l'aspetto tecnico o tecnologico che appare negli altri libri, come riparare viventi o i grandi lavori di nascita di un ponte. Ma c'è già una sorta di interesse per l'aspetto collettivo, l'aspetto comunitario. Nel ponte troviamo il cantiere e nel riparare viventi c'è il team medico intorno al cuore di Simone. E qui c'era già questo aspetto collettivo, c'era già un gruppo. E di cui poi il personaggio del romanzo non esiste in maniera classica. Questi tre romanzi, Cornish Kennedy, Nascita di un ponte, Riparare Viventi, non c'è un personaggio principale che assume potere sugli altri personaggi e catalizza l'azione. Ma si tratta piuttosto di gruppi. Gruppi che si concordano, che si costruiscono insieme. E comunque in questo libro semplicemente vogliono mostrarsi, vogliono fare e nello stesso tempo non fare nulla insieme. essere sfaccendati nella loro gioventù, sono tutti uniti comunque. E quello che mi interessava era vedere che cosa nasceva da loro, come energia, come desiderio. E questo passa attraverso la parola. E quindi questa è la questione linguistica che è al centro di questo libro. Naturalmente è vero che in questo romanzo non ci sono le grandi strutture narrative che ci sono nei due romanzi successivi, ma quello che c'è sicuramente è la lingua, lo stile, la capacità di Miley di inventare il linguaggio per renderlo il più prossimo possibile della realtà e per restituire al meglio la realtà in tutte le sue sfumature, che non vuol dire necessariamente realismo, ma vuol dire un'altra serie di cose. Però appunto, ritornando alla questione del gruppo, è vero, ci sono vari personaggi che interagiscono e ogni personaggio è definito dalle sue relazioni con gli altri, però comunque poi qui ci sono due, un trio diciamo di personaggi, come dicevo prima, Eddie, Suzanne e Mario, o Mario, come dicono i francesi, che, diciamo così, sono al centro di questa storia. E soprattutto Eddie e Suzanne, dove c'è il problema di un elemento esterno, in questo caso Suzanne, questa ragazza che viene da un altro mondo perché è parigina, viene da Parigi, non c'entra con questo... Più bourgeois... Appartiene a un altro gruppo... Più borghese, sì. Più borghese rispetto a loro, è che un giorno cerca di entrare nella banda e quindi interagisce con loro, rompe le gerarchie, rompe gli schemi. Sì, infatti, il personaggio di Suzanne è il personaggio attraverso il quale il lettore entra all'interno del gruppo. All'inizio vengono presentati un po' da distante e si vede che si presentano, eccetera. Ma attraverso gli occhi di Suzanne si entra nel gruppo. È una ragazza di 15 anni, affascinata da questi ragazzi, che si tuffano da queste rocci e che si liberano a giochi pericolosi e cercherà di far parte della banda e sarà sottoposta a un rito di iniziazione. Ed è questo il modo in cui funzionano le comunità, le comunità di adolescenti, i gruppi di adolescenti. Quali sono le leggi in una banda, questa sorta di banda? Come si entra all'interno di questa banda? Come ci si converte agli altri? Come ci si sottopone a forme di leggi che sono le leggi dei giovani? Oppure di questa banda specificatamente? E lei ruba un telefonino, per esempio, e un po' per stuzzicarla, ma anche per farla entrare nel gruppo come una sorta di tronizzazione, dovrà tuffarsi, dovrà fare un tuffo anche lei. Ci sono tre punti diversi per tuffarsi, lei dovrà superarli tutti. C'è qui la questione del rito. Tutto il rituale, mi interessa tantissimo le forme di rito, rituali, che esistono in seno ai gruppi, gruppi organizzati e all'interno delle bande, che a volte sono un po' solvagge, eccetera. Ma no, non è vero. Hanno una modalità per salutarsi, hanno una modalità per comunicare, per parlarsi. E questo linguaggio che diventa il cemento della comunità stessa, la carne e degli atti che bisogna commettere, fare, accettare di fare per essere come gli altri e per dimostrare che si può veramente partecipare, si può essere membri, si può entrare nel gruppo. Lei lo farà. E poi, simultaneamente, è un elemento che perturba, che turba il gruppo. Perché, l'abbiamo detto, l'adolescenza è il tempo della metamorfosi, è il tempo del desiderio. E lei cercherà di eccitare il desiderio dei ragazzi del gruppo. E intorno a lei ci saranno forme di turbamento. Porta una sorta di eros giovanile nel gruppo. E questo permetterà anche alla storia di avviarsi, di realizzarsi. Lei è una sorta di fiammella che fa nascere il gesto erotico e la sovversione. Perché anche loro avranno voglia di brillare agli occhi di questa ragazza. Quindi scatta una sorta di competizione di sguardi, di competizione per richiamare l'attenzione. Questi ragazzi fanno da uno scoglio sempre più alto. Come diceva Maelis, ci sono tre diversi tipi di altezza, sempre più pericoloso. Riconduce, evidentemente, tutto il discorso adolescenziale della sfida al pericolo, del mettersi in situazioni pericolose, di sfidare la legge anche attraverso il tentativo di mettersi in difficoltà e di mettersi in pericolo. E però dall'altra parte abbiamo l'elemento della legge. Abbiamo questo personaggio, questo commissario, Silvestro Operà, un nome un po' curioso, che è un programma forse. Esattamente, esattamente, un programma Silvestro Operà, perché Silvestro è il nome che deriva dall'aggettivo della foresta. Silvestro è la selva, è la foresta, è il bosco. Nel momento in cui appare nel libro, quando lo incontriamo, è nel massiccio dei mori, è un bosco che si trova, a una foresta che si trova tra Tolone e Saint-Tropez. C'è una giungla molto arida di castagni, querce, di foreste molto secche, molto fitte, molto aride. E quando appare, ecco, esce dalla foresta, esce dal bosco. E per me era interessante il fatto che avesse un nome un po' oscuro, un po' tortuoso, e che forse anche avesse questo nome, invece, Opera. E poi, di fronte a lui, anche i ragazzi hanno dei nomi, e questi nomi appartengono al presente. Nella scrittura, infatti, i ragazzi vengono sempre interpretati all'indicativo, mentre Silvestre Opera è una sorta di memoria continentale, di storia più oscura, che mette in relazione e in collegamento un mondo violente, il mondo della criminalità. È un personaggio che si ispira ai gialli americani, il personaggio del poliziotto, un po' malinconico, solitario, piuttosto irrazionale, un po' sconvolto, che sarà comunque turbato da questi ragazzi. A Marsiglia, di fatto, e questo è proprio vero, è un fatto documentato, questo lungomare ci sono dei poliziotti in bici che devono impedire agli adolescenti di tuffarsi, perché è pericoloso, perché nel passato ci sono stati degli incidenti molto gravi, c'è stata una vittima dal ponte della Fosmoné, perché la profondità non era abbastanza ampia, perché l'acqua non era così profonda in quel punto. Quindi per il Comune è difficile gestire questi ragazzi che arrivano in continuazione e che cercano di saltare da queste altezze importanti. Quindi ci sono questi poliziotti che devono assicurarsi che i ragazzi non si tuffino. e lui Silvestro Perà è un po' il collegamento e rappresenta la repressione appunto. Ma anche lui appartiene a una frontiera in qualche modo. Lui deve vietare i tuffi ma allo stesso tempo è colpito è colpito dalla vitalità dallo slancio vitale che caratterizza questi ragazzi dalla loro grazia dalla mescolanza di purezza e violenza che appartiene all'adolescenza. Oscilla tra invidia dei giovani e poi ogni tanto però è protettivo nei loro confronti gli aiuta gli tiene a distanza è molto ambivalente e in fondo incarna l'ambivalenza degli adulti nei confronti dei più giovani degli adolescenti. Sì esatto è proprio ambivalente c'è una scena in particolare in cui addirittura sale sale lungo la roccia e si rende conto innanzitutto che non ha il corpo adatto per adeguato per farlo per poterlo fare per poter salire e liberano le vertigini e capirà veramente qual è questa questione della vertigine qual è il desiderio di vertigine che possiamo chiamare anche una sorta di furore di vita che anima i giovani ed è proprio questo una sorta di movimento di oscillazione tra il dover reprimere da un lato e dall'altro questo turbamento un turbamento legato alla bellezza a questa forma di sensualità al fatto che questi adolescenti gli sembrano gli appagliano completamente liberi e lui li guarda ed è profondamente colpito quindi è veramente un poliziotto ambivalente anche lui sta alla frontiera gli altri adulti del libro sono molto più adulti si incaricano della legge per esempio il sindaco i genitori i genitori di Eddie per esempio la madre di Susanne sono veramente degli genitori che ricordano le cui parole sono veramente un riportare all'ordine tu hai gli esami non devi fare questo eccetera sono genitori un po' destabilizzati dall'adolescenza dei loro figli ma è vero che la metamorfosi che conoscono i ragazzi i giovani quando arrivano all'adolescenza i bambini quando arrivano all'adolescenza mette veramente a distanza crea una distanza all'interno della famiglia la famiglia si vede messa di lato e la famiglia diventa la banda che assume le funzioni di famiglia e a questo punto c'è una sorta di rottura è un istante specifico l'apprendimento della libertà l'apprendimento del desiderio del corpo avviene mettendo la famiglia a distanza hai parlato del corpo del corpo di Silvestre che non è il corpo che sarebbe necessario per potersi tuffare dall'alto della scogliera e poi tutto il romanzo è attraversato dai corpi di questi giovani appunto alla prova fisica eccetera e questo è un altro tema che poi ritroveremo molto più in là in riparare i viventi dove la questione del corpo diventa fondamentale questo libro per me rappresenta veramente un istante in cui cercavo di scrivere un romanzo dove tutto transita attraverso il corpo la narrazione non passa mai attraverso un esame psicologico non passa mai attraverso la psiche è la scrittura del manifestarsi fenomenologico è una scrittura descrittiva dove più interessante almeno per me al tempo era più interessante ma anche adesso forse è più forte più importante più intenso è forse più poetico dire com'è che si muove quella persona se arrossisce parlando ad un'altra persona o se si agita la velocità del corpo la luce della sua pelle che cambia da un momento all'altro per me questo è l'aspetto più interessante piuttosto che chiedersi se erano innamorati o meno sappiamo che arrossisce la scrittura si avvale di questa manifestazione esterna del corpo e questo è molto radicale nel libro molto netto siamo sempre in una forma di descrizione una forma descrittiva coreografica come un balletto è un po' come al cinema sappiamo cosa possiamo vedere l'immagine induce il pensiero la descrizione porterà indurrà il fuoricampo la parte psicologica la vita psicologica quindi per me tutto doveva passare attraverso il corpo ed è vero gli adolescenti sono abbondantemente descritti nella loro grazia nella loro energia nella loro animalità il tuffo è vero al centro c'è proprio questa storia di tuffi e mi sono dilettata nel cercare di descrivere che cosa fosse un tuffo poi non so ma è vero che per me era importante fissare le intenzioni psicologiche nei gesti nei movimenti nelle manifestazioni dei corpi tutto gesti però poi tutto linguaggio perché poi tutto questo bisogna trasformarlo in linguaggio sì poi penso che la psicologia è nei gesti la psicologia è nei gesti è chiaro che non sono conchiglie vuote gusci vuoti per me la psicologia si convertiva in un gesto mai in un discorso psicologico era anche per trovare velocità perché è un romanzo che si basa molto sull'urgenza sulla velocità e mi permetteva anche di mantenere una sorta di velocità nella frase poi qui si ritrova la capacità linguistica stilistica di MyList dove appunto tutto diventa linguaggio tutto diventa ritmo tutto diventa precisione delle parole che possono essere sia appunto quelle che restituiscono diciamo così il gergo della banda il linguaggio comune dei ragazzi ma allo stesso tempo anche la lingua che sa restituire perfettamente la sensualità della natura del mare del vento direi che forse in questo romanzo inizia quel tipo di ricerca linguistica che poi ritroviamo nei romanzi successivi si la ricerca quello che era un obiettivo letterario allo stesso tempo un aspetto molto delicato era proprio la questione dell'oralità che in questo libro è presente per la prima volta nel mio lavoro tutto quello che avviene attraverso l'ascolto era una sorta di scrivere ad orecchio non facendo sorgere voce o parole la questione dell'oralità richiede molta precisione richiede precisione perché non si tratta di trascrizione orale si tratta di restituzione è una forma di composizione bisogna catturare delle espressioni bisogna catturare un ritmo di lingua e un lavoro un lavoro quando ho scritto questo libro chiaramente non ero certo adolescente ben lungi dall'essere adolescente avevo il vantaggio di vivere con degli adolescenti era già positivo mi dava avevo un asso in più nella manica conoscevo qualcosa in più avevo degli spunti ma l'idea non era di far come se avessi scritto un libro con la lingua dei giovani non volevo essere un ventriloquo non era questo il mio obiettivo io volevo una storia con una forma di ricerca linguistica che fosse colonizzata turbata perturbata da questa specie di lingua dei giovani che si insinua nella frase nelle frasi del romanzo ci sono descrizioni all'inizio c'è una lingua più classica per esempio ma altrimenti la frase attraversa diversi registri linguistici che vanno da una forma di preziosismo c'è un gusto anche diverso c'è una ricerca ci sono insulti ci sono anche parti più banali più triviali ci sono parole straniere il modo in cui si propone l'inglese qualche parola l'inglese perché chiaramente i giovani recuperano qualche parola qualche slang in inglese che magari viene dalla musica la musica entra lascia le tracce nel linguaggio e veramente avevo voglia di su questa base di trovare un altro linguaggio per me era molto interessante questo e l'ho visto molto come un testo molto sonoro l'ho interpretato come un testo sonoro prima di essere un testo scritto era veramente c'era proprio un obiettivo di oralità un obiettivo di sonorità in questo testo di musica di sonorità volevo chiederti che tipo di musica hai ascoltato c'è dietro questo romanzo e che tipo di letture perché come sempre la letteratura si nutre di altre letture di altri elementi culturali ecco qui ero proprio curioso cioè che musica e che libri ci sono dietro questo romanzo allora mi ricordo che ascoltavo ci sono dei pezzi addirittura che sono citati nel libro di Alicia Keys ma ascoltavo tantissimo dei successi mondiali molto allegri quelli di Beyoncé Rihanna eccetera un po' di rap e poi del punk rock perché nella musica punk rock c'è qualcosa di selvaggio di animale è un desiderio proprio c'è un'energia c'è un'energia molto intensa ma è un libro che è stato influenzato da un libro in particolare penso che non avrei scritto lo stesso libro se non avessi letto un libro di Jean-Louis Chrétien un filosofo che ha scritto un saggio che si intitola La gioia spaziosa sulla dilatazione del cuore e questo libro mi ha illuminato mi ha appassionato è vero che ho scritto questa Corniche Kennedy questa Corniche Kennedy sulla scia di questo saggio che voleva dimostrare che le nostre emozioni hanno delle analogie fisiche quando ci si sente potenti quando ci sente che c'è gioia che il mondo ci appartiene si ha l'impressione che il cuore si dilati mentre quando invece c'è stiamo male abbiamo una pietra nello stomaco un groppo in gola e ho proprio ragionato sulla materializzazione delle emozioni come le emozioni possono dar luogo a immagini fisiche molto precise e questo libro mi ha influenzata molto ed è un libro che è nato da un film da vari film come i ragazzi di Pasolini per esempio troviamo anche i ragazzi di vita di Pasolini di cui ho letto la traduzione che è uscita lo scorso anno in Francia ma io avevo visto il forare di vivere di Nicholas Hyde film di questo genere che mettono in luce e sottolineano dei gesti per avere una sorta di rischio fisico rischio incredibile questi tuffi non lo si dice mai abbastanza forse non lo dico mai io abbastanza non lo preciso mai ma sono molto pericolosi per davvero c'è un rischio enorme quando ci si tuffa le altezze sono importanti il mare si infrange contro le rocce è impressionante comunque quando gli si vede in un altro incontro parlavamo con Luc Lang un altro scrittore francese amico di Melis peraltro parlavamo proprio della letteratura come esperienza perché adesso stavamo parlando di esperienza insomma dei giovani che fanno esperienza si mettono in gioco rischiano eccetera e Luc Lang diceva una cosa che in realtà la letteratura è un romanzo prima di essere conoscenza è un'esperienza credo che tu sia d'accordo su questo tipo di si ne avevamo parlato parecchio insieme è vero è vero che con Luc Lang con altri scrittori beh pensiamo che la lettura ma anche la scrittura sia una questione di esperienza più che di competenza non si tratta di competenza si tratta di avere accesso a un'esperienza sensibile che riporta l'emozione insieme al testo e mi piace molto l'idea che il mondo fisico in cornice Kennedy quello che mi piace molto e forse qui è presente più che negli altri il primo mondo è il mondo fisico è precisamente il mondo dell'esperienza è un mondo molto radicale o freddo o fame o caldo o freddo c'è luce o voglia di saltare di stufarmi in mare voglio quella ragazza è un mondo molto arcaico e che è reso sottile giustamente dal gioco delle condivisioni dai rapporti con gli altri e questo primo mondo che è il mondo dell'esperienza della sensazione delle sensazioni è un mondo molto stimolante per la scrittura ed è vero che in questo libro non si segue un processo non si è in un libro come se si fosse in una traiettoria è una sorta di libro che scena di teatro questa plat questo luogo dove avviene l'incontro dei giovani è uno spiazzo piatto uno spiazzo che rappresenta questo mondo fisico che rappresenta l'incontro dell'esperienza il luogo dell'esperienza il modo più semplice per dirlo è che ognuno deve riflettere alla modalità con cui legge un libro e poi parla con qualcun altro e si renderà conto che la verità del testo è diversa a seconda del lettore la lettura è una creazione di per sé stessa è giusto che sia così non si è mai passivi quando si legge si è personalmente dei creatori e ne avevamo parlato con Lung Lang della lettura come esperienza e come creazione e anche la scrittura come modalità di formalizzare di modellizzare delle esperienze nel linguaggio naturalmente poi si trasforma in conoscenza in conoscenza del mondo in aspetti del mondo e nello stesso modo però poi la letteratura per chi scrive è anche un modo di appropriarsi del mondo cioè nel momento in cui un scrittore si mette a scrivere di un tema come quando tu hai scritto riparare i viventi che sei andata negli ospedali ti sei informata ti sei appropriata di un mondo che non era tuo quando hai descritto la costruzione di un ponte e sei andata a informarti sul calcestruzzo cioè è anche poi un modo di conquistare dei pezzi del mondo per lo scrittore e allora la domanda è anche questa in che modo poi il mondo in cui vive influenza lo scrittore in che modo lo determina in che modo entra nella letteratura quello che vive questa è una domanda che si fa spesso poi per esempio non so anche agli scrittori francesi in questi anni viene spesso domandato ma come tutta la violenza che c'è stata in Francia gli attentati come sono entrati che cosa hanno prodotto sulla vostra letteratura le conseguenze degli attentati del 2015 due momenti importanti 7 gennaio con Charlie Hebdo e il 13 novembre con gli attenti che vengono chiamati del Bataclama che in realtà hanno interessato più punti a Parigi e poi gli altri attentati che sono seguiti soprattutto gli ultimi è presto per dirlo ma come lasceranno una traccia nella letteratura oggi c'è un libro di Philippe Lancon che è stato pubblicato recentemente un libro molto importante che riguarda questa tematica di liberazione di Charlie Hebdo che era presente il giorno in cui hanno dato l'assalto a Charlie Hebdo e che è stato ferito e ha subito 25 operazioni insomma ha avuto conseguenze gravissime dall'attentato si è salvato la vita ma ne sta ancora pagando le conseguenze questo libro è straordinario inizia con una trentina di pagine sulla notte dei re di Shakespeare è un racconto una testimonianza molto importante proprio perché guarda immediatamente si rivolge immediatamente alla letteratura e non soltanto un racconto di una testimonianza poi c'è Virginie Despot anche lei ausculta in maniera molto sottile l'onda che proviene da questi attentati l'onda di sconvolgimento di turbamento che arriva fino al nostro presente è vero per me almeno è vero il rapporto fra il fatto di scrivere dei libri o la letteratura romanzesca e il mondo rappresentano per me una domanda che mi riportano la mia adolescenza perché quando avevo 12-13 anni ho letto per conoscere il mondo per me il romanzo beh mi ricordo ho letto i romanzi di Zola che sono piuttosto realistici realisti e li ho letti per poter accedere ad altri tempi ad altre realtà ad altri mondi che la mia vita all'Avro non mi permetteva di conoscere c'era una dimensione di conoscenza che mi ha comunque sconvolta e quando ho scritto i libri sul ponte e ancora di più quando ho scritto Riparare Viventi l'idea che il romanzo che la storia possa riassorbire e poi catalizzare poi offrire una forma di conoscenza attraverso il romanzo attraverso una storia e attraverso un falso attraverso una storia che non è vera ma che ha la sua verità era importantissimo per me e il processo del trapianto doveva essere esatto doveva essere rigoroso preciso mi dicevo al di là di quello che penseranno di questo libro potrebbe funzionare almeno come un manuale per il trapianto di cuore perché sarà perfetto da quel punto di vista e questo è un obiettivo comunque molto forte per me e in generale al di là del libro su Lampedusa che è diverso perché comunque era proprio in questo libro c'era proprio la volontà di prendere la parola sul piano politico e a volte ci si chiede come prendere la parola nelle tematiche politiche come indignarsi essendo scrittore ma in genere per me il rapporto con la realtà il rapporto col mondo è la partenza per andare verso il romanzo è il punto di partenza ne avevo bisogno avevo bisogno di andare sui siti dei ponti avevo bisogno di andare negli ospedali vedere un trapianto cardiaco vedere assistere a queste scene a partire dal documento poteva nascere il romanzo la scena romanzesca sorgeva dall'osservazione documentata per Lampedusa ho fatto più o meno la stessa cosa Lampedusa veramente per noi riporta il ballo di Tommaso di Lampedusa e da lì sono partita per arrivare alla realtà tragica delle persone che annegano dell'immigrazione che cercano di raggiungere l'isola quindi questo ponte questo passaggio fra reale e romanzo è una modalità che permette alla letteratura di respirare io scrivo soprattutto testi che interrogano il mondo in cui vivo Lampedusa hai provato il bisogno di esprimerti politicamente cosa che di solito non fai non sei uno di quegli scrittori che firmano petizioni di continuo fanno continuamente declarazioni pubbliche eccetera perché in quel caso hai voluto prendere la parola politicamente la presa di parola politica è delicata prendere la parola politica è delicata spesso è modellata sulla dichiarazione sul pubblico a volte spesso questo avviene dietro al fatto che ci si indigna o attraverso l'empatia io lo faccio raramente per davvero perché trovo che a volte ci sono delle posizioni secondo me che si assumono e altre che sono difficili invece da assumere in Lampedusa ho cercato veramente di modellare di formalizzare quello che può essere una parola politica cioè situarmi all'interno del linguaggio e interrogare un sintagma che è Lampedusa che cosa si intende per Lampedusa e fare il cammino percorrere il mattino fino al naufragio è vero che avevo la possibilità di farlo per un intero libro per il dipanarsi di un intero libro non è grande però questo testo non sarebbe stato possibile farlo su una rivista su un quotidiano all'inizio è stato dietro una richiesta non c'era una richiesta politica mi avevano chiesto di descrivere il paesaggio e ho pensato al toponimo la questione delle cartucce e ho cercato di concentrarmi su questo toponimo comunque era abbastanza sono stata turbata moltissimo perché nel nostro spazio politico in Europa permettiamo questi naufragi vorrei precisare che è un testo che è stato pubblicato nel 2014 a maggio 2014 che io ho scritto a gennaio febbraio 2014 cioè un anno e mezzo prima della crisi che è stata definita la crisi dell'immigrazione dei settembre agosto 2015 quindi non era un testo che voleva basarsi sulla attualità o prendere spunto dall'attualità era secondo me talmente folle veramente che ci siano naufragi di 500 persone per me è stata una sorta di guerra è una sorta di guerra che avviene in Europa e questo poneva tanti punti interrogativi un altro articolo che mi hanno scritto che mi hanno richiesto per il salone cos'è l'Europa ho dovuto descrivere che cos'era l'Europa la questione dei rifugiati è strettamente collegata all'identità europea la questione dell'ospitalità è un valore un valore totalmente europeo un valore modellato nell'antichità nella Grecia antica io ho riletto l'Eneide quest'anno per un lavoro si tratta solo di scene di immigrazione in nave di accoglienza di persone che fugono da città in fiamme dall'oppressione politica e mi dico ecco tutto si ripete tutto si reitera e per me era insupportabile assistere questi naufragi e mi sono detta ho la possibilità di scrivere un testo dandogli un nome un paesaggio e cercherò di descrivere questo mondo di Lampedusa cercando di entrarci non dico che sia ottimistica come presa di parola ma secondo me è giusta una presa di parola giusta equa a volte invece trovo che le posizioni i posizionamenti politici la presa di posizione per le petizioni eccetera è vero a volte ne sottoscrivo ma trovo che sia troppo semplicistico c'è una sorta di atteggiamento o invece scrivere un libro è un lavoro non richiede due ore è un lungo lavoro non bastano due ore io ho voglia di un lavoro più profondo su queste temetiche purtroppo poi non avremo più tempo a disposizione Cornish Kennedy Nascita di un ponte Riparare i viventi Lampedusa la prossima tappa che è un modo di chiederti in realtà poi come lavori cioè quanto lavori quanto tempo ci vuole per scrivere un romanzo qual è la modalità di lavoro quali sono le tue modalità di lavoro a me piace molto lavorare di fatto lavoro il più possibile cerco comunque di avere un rapporto quotidiano con questa scrittura può prendere la forma della scrittura stessa può prendere la forma di rilettura o di lettura forse sembra banale ma è difficile scrivere un libro è un impegno è un lavoro molto individuale molto solitario molto lungo questi libri li scrivo in maniera molto intensa e molto rapida come Riparare i viventi sono due libri che ho scritto in un anno poi Nascita di un ponte è il libro che ho pubblicato in autunno e sono libri che mi hanno coinvolta per più anni anche se poi li ho scritti in poco meno di un anno ma è una compagnia molto lunga un accompagnamento molto lungo perché c'è una sorta di sedimentazione di maturazione del linguaggio quello che mi piace è anche che ci sia l'elaborazione di una forma una forma linguistica che sia equa ma allo stesso tempo bella la questione della bellezza per me è importante per esempio per Corniche Kennedy ero molto preoccupata molto preoccupata del fatto che la bellezza dell'adolescente questa grazia iperattiva forse potesse essere ripresa nella lingua per me era importante ecco lavoro tanto leggiamo molto quindi iniziamo comunque a leggere Corniche Kennedy aspettando di leggere i prossimi libri mi invito veramente a leggere perché è un libro bellissimo ringrazio Mailis per le cose che ci ha detto ringrazio le persone che hanno tradotto e ringrazio voi per la vostra attenzione vi ricordo che Mailis firmerà poi all'uscita il suo libro per chi lo desiderasse grazie arrivederci grazie grazie grazie